Il dramma, la situazione nebulosa di 51 dipendenti di Cemitali Italcementi che dal 2018 ha chiuso e loro si trovano in stato di cassa integrazione per cessazione di attività. Vedete, io mi occupo molto dell'exilva, delle problematiche dell'exilva ed è giusto fare così, ma ci sono tantissime altre situazioni che meritano attenzione perché i lavoratori meritano dignità. Sono 51 persone, 51 famiglie. Ne parliamo con Giuseppe Farina. Buongiorno, quando parliamo dell'avvertenza che riguarda i lavoratori Cemitali Italcementi è utile anche fare un piccolo storico della natura dello stabilimento che abbiamo qui alle nostre spalle. Praticamente questo stabilimento nasce negli anni 60 di pari passo con l'ilva e produceva cemento in polvere. Questo stabilimento, per chi non conoscesse come strutturato, ha tre altoforni che erano in produzione, erano alimentati a carbone, ha dei camini, dei fumi, ha i parchi stoccaggio materie prime che vedete alle mie spalle e per questo molto spesso si confonde con l'ilva anche perché è adiacente. Ora è importante dire che questo stabilimento sicuramente, anzi questa industria, è stata sicuramente impattante dal punto di vista ambientale tanto quanto l'ilva. Si parla di petcock e non solo? Si parla non solo di petcock ma anche di materie prime tra cui c'è stata anche un'inchiesta della procura di Lecce dove praticamente nel cemento andavano a finire sia la loppa, che è un derivato della produzione dell'acciaglio, sia alle ceneri di Cerano. Allora, questi materiali la procura ha aperto un'inchiesta perché non si sa se dovevano essere considerati inerti o se dovevano essere considerati rifiuti speciali. Veniamo proprio alla vostra situazione. 2018 è l'anno di stop delle attività e voi siete invece in cassa integrazione dal 2014. Esatto, noi siamo in cassa integrazione dal 2014 e oggi siamo al 2022. Nel corso di questi anni l'azienda ha sfruttato qualsiasi forma di cassa integrazione. Queste cassa integrazioni prevedevano che l'azienda presentasse un piano industriale perché erano concepite per traghettare i lavoratori e l'azienda in un particolare momento di crisi. Ma a nostro giudizio l'azienda già da allora aveva l'intenzione di chiudere lo stabilimento di Tanto. E questa intenzione si è praticamente manifestata nel settembre del 2021 dove l'azienda apre una procedura per cessazione attività e attinge alla cassa integrazione dei lavoratori per un altro anno, fino a settembre prossimo. Dopodiché saremo a tutti gli effetti licenziati. Ecco, a questo punto le istituzioni, il prefetto, la politica intesa in senso ampio a tutti i livelli, che risposte vi ha dato? Noi ci siamo interfacciati spesso, non come lavoratori, ma praticamente tramite i nostri rappresentanti con queste istituzioni. Abbiamo voluto sottolineare quanto questa avvertenza non sia solo un'avvertenza di lavoratori, ma un'avvertenza ambientale a tutti gli effetti. Ora cosa succede? Che ad oggi non abbiamo avuto nessun impegno serio, nessuna garanzia di occupazione e nessuna garanzia... Di tutti i soggetti rispetto ai quali vi siete interfacciati. Certo, certo. E non solo questo. La collettività non ha garanzia di che fine farà questo ecomostro, perché questo è un ecomostro che Taranto non merita. Allora, questo ecomostro è praticamente il monumento che le multinazionali lasciano su Taranto per dire noi siamo le multinazionali e a Taranto tutto possiamo e noi ci siamo stancati. Io sono vicino a questa realtà, lo dico col cuore e ho apprezzato molto che non solo l'amico qui presente ha sottolineato la problematica occupazionale che pure è gravissima. Immaginate 51 famiglie da 8 anni a questa parte a stecchetta in cassa integrazione, ma ha dimostrato anche una sensibilità ambientale parlando letteralmente, testualmente di ecomostro. Questo vuol dire che questa è una città che si deve unire e non devono esserci fratture tra ambientalisti e operai, ma bisogna camminare, bisogna viaggiare all'unisono rispettando appunto la dignità del lavoro, rispettando l'ambiente. Cosa che in questo catorcio, in questo ecomostro, mutuo la tua espressione, purtroppo in questo ecomostro non vi è rispetto né dell'ambiente né dei lavoratori. Volevi aggiungere? Sì, certo. Noi spesso come lavoratori abbiamo dato la nostra disponibilità, essendo dei lavoratori altamente formati e dei lavoratori che conoscono questo stabilimento centimetro per centimetro, a essere impegnati nella bonifica dello stesso. Ma su questo punto di vista nessuno sembra ascoltarci, perché se ha i talcementi li si permette di abbandonare. Che interesse ha a bonificare? E questo dovrebbe farlo lo Stato però. Sicuramente. Non è che si può, i talcementi va via, come si suol dire, chi si è visto si è visto e si lascia l'ecomostro, il bubone e tanto poi i tarantini se lo piangono. Questo è il timore, questo è il timore di quello che accadrà e a oggi non abbiamo notizie o dati che ci fanno pensare diversamente.